Cioè, senza farmi troppo i fatti vostri, ma ce n'è una che vi ricordate di litigata che avete fatto? Ma oddio, epica proprio, va a Sanremo abbiamo litigato un paio di volte, sì Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, bentornati, ciao, io sono Gianluca Gazzoli Se ancora non l'avete fatto e vi va, se ci state seguendo su Youtube, iscrivetevi su questo canale Se invece ci state ascoltando su Spotify, tanta roba, ho scoperto che c'è la campanellina Cliccatela perché così almeno non vi perdete nessun incontro, nessuna puntata Sono contento perché siamo sempre di più ed è sempre più bello sapere che anche voi siete interessati alle tante storie che proviamo a raccontare qui Come dicevo, tanti amici che passano a trovarci, sono particolarmente contento perché secondo me di cose da raccontare Insomma di temi da affrontare, ce ne sono parecchi perché sono passati dal basement di Comacose Yeah, ciao Senti che il pubblico proprio è in giubilio Il pubblico che voi conoscete bene, nel senso pubblico dal vivo che credo che non vedevate l'ora di incontrare, di riabbracciare, di rivedere Eh sì, è passato un po' di tempo, ne parlavamo poco fa perché abbiamo appena messo giù il prossimo tour nei club e noi non andiamo a suonare nei club da quattro anni Quattro anni? Sì, dentro a un club ed è tantissimo e mi ho detto ma come è possibile? Non siete stati tra quelli che questa estate si sono buttati a capofitto su qualsiasi tipo di concerto? No, quest'estate no, però abbiamo suonato l'estate scorsa quando ancora c'erano tutte le restrizioni, mascherine, sedute eccetera, quindi era anche strano Cioè l'ultimo ricordo che abbiamo dei concerti è quella roba lì che è un po' diversa dalla realtà normale Sì, però è incredibile come dicevano soprattutto sul mondo della musica dal vivo e no adesso quella roba lì è cambiata, non torneremo più, facciamo gli streaming anche dopo Invece mi sembra che tutti stiano tornati a... Sai, in generale tante cose sono tornate molto uguali, né bene né male, forse proprio l'uomo diciamo che si adatta in generale Questo è un tema che in natura e quindi sì, un comparto che in realtà zoppica un po' dal punto di vista professionale purtroppo perché tante persone che lavoravano, tante dette i lavori hanno cambiato lavoro Ah certo, non sono più tornati indietro Eh no, perché magari nel frattempo hanno iniziato un altro percorso, chi è iniziato nella ristorazione eccetera eccetera Quindi magari, oh guarda che ripartono i concerti, ma io intanto faccio il commesso, faccio un altro lavoro O magari si sono reinventati o sono espatriati E questa cosa è stata un problema, infatti quest'estate che dicevi tu, noi ne abbiamo suonato ma tutti i nostri collaboratori erano in giro con altri artisti e anzi con più artisti Il nostro fonico nello specifico faceva quattro tour ad esempio Quindi c'era una carenza anche di quel tipo di professionalità E quindi, no infatti è stato un'estate da quel punto di vista lì super piena Cioè che ogni sera avevi la possibilità se volevi di andare a dieci concerti diversi Quindi anche lì non è che magari poi tutti siano andati proprio come le aspettative Ma sai d'altronde uno in tasca ha quei soldini lì, no? Esatto, anche quello Destinati ai concerti e quindi, però è così C'erano anche tanti recuperi che hanno un po' sfalsato Quindi gli artisti in promozione, gli artisti magari che dovevano recuperare Però comunque, diciamo, positivo il fatto che sia tornato Assolutamente, totale, totale Pian piano secondo me si risistemerà Total, totalissimo Comacose peraltro è com underscore cose Sì, sì, esatto Perché quello è importante È importante se no non ci trovi su Instagram E su Spotify anche Soprattutto su Spotify Sì, è nato così perché comacose, non lo so perché Esiste? Forse ne esiste un altro? Non lo so Ah, tu dici come quando devi cercare un indirizzo mail Però hai già preso un nickname Esatto Allora devi inserire degli... No, no, l'abbiamo... Comacera già Comacera già E poi niente, abbiamo underscore cose Ce lo siamo tenuti perché si fa... Beh, ci sta Insomma, quella roba lì deve essere chiara Uguale dappertutto Se no poi non ci trovo più Che però lì non c'è un nesso con i vostri nomi diretti Perché appunto Fausto, California Non c'è nessun collegamento con... No, no, no Non... Volevamo un nome un po' così, un po' scuro all'inizio Perché siamo partiti facendo un genere Diciamo un po' più rap Un po' più cattivone E quindi volevamo un nome un po' cattivone Sì, ma invece adesso se penso comacose Non mi viene in mente qualcosa di... È perché siamo due teneroni noi Infatti è incredibile come in realtà Ormai il vostro nome sia associato all'amore In qualche modo Cioè a questo discorso emotivo Fa ridere perché poi anche ad esempio Quando abbiamo fatto le cose più grosse Tipo Sanremo Così quando ci annunciavano Noi ci guardavamo Diciamo noi ci chiamo comacose E c'è Amadeus che sta dicendo comacose A Sanremo Sì, ci faceva ridere sta cosa E effettivamente era un contrasto Magari un po' particolare È un po' strano E poi arriviamo noi, capito Tutti carini Ti facevamo una canzone d'amore Beh quella roba lì a spaccare Io poi ci volevo arrivare sul discorso di Sanremo Perché poi Sanremo è un contesto Un mondo che o ti... Cioè che ti può far volare altissimo O distruggere, no? Ci sono veramente... Non ci sono tantissime vie di mezzo Nel vostro caso ho avuto la sensazione che Insomma ne siate usciti alla grandissima Da quel tipo di esperienza Nonostante sia un mondo magari Un po' lontano forse Da quello che era il momento in cui siete partiti Ma sì, noi siamo andati anche Con un po' di incoscienza forse Avevamo una canzone che... Secondo me era buona Era un bel pezzo Era un pezzo che sicuramente aveva Un'attitudine pop E quindi dove hai il maggior cannone lì E quindi insomma Poi era lockdown Quindi non c'erano alternative E abbiamo provato E forse è complice anche il fatto Che non c'era il pubblico Quindi abbiamo scelto di guardarci Questa cosa ha creato anche Se vuoi magari un'empatia Nel racconto della canzone O sono momenti Forse essere il momento giusto Nel posto giusto Il pezzo indovinato Però sai credo che Stavo ragionando su quello che dicevi tu adesso Che Sanremo ti porta su o ti porta giù Forse gli ultimi Sanremo Forse sono solo positivi Forse credo Perché poi magari una volta C'era magari una gogna mediatica Dove tu magari lì non funzionavi E poi dovevi sparire per forza di cose Sai adesso magari con i social Ti puoi raccontare in modo diverso E magari anche se lì non ti sei fotografato Perché poi non è neanche facile Perché è un cavallo difficile da governare Perché poi non dipende da te Hai attorno mille cose Mille input Però magari poi ti sei fatto vedere No magari hai incuriosito qualcuno Che a quel punto ti va a cercare E trova un mondo Invece una volta magari uno ti incuriosiva Ma se poi i media tradizionali Non gli davano lo spazio Poi finiva lì È quello infatti Quindi appunto Credo che Dai oggi Sai È un paradosso Ma oggi dove c'è tutto Poi in realtà Sanremo È diventato invece di nuovo Un momento importante Di visibilità Forse proprio perché magari È una sorta di contenitore indotto E forse crea il tifo Non lo so quale sia È ormai diventato l'unico Grande evento live Che tutta l'Italia Guarda in televisione Essendo cambiato tante cose Però è incredibile come oggi appunto Un genere musicale come il vostro È presente lì Ma non solo è presente Ha successo Così come tanti altri Che forse un po' di anni fa Anche perché appunto Anagraficamente Un po' di edizioni del festival L'avete viste L'hai viste Fausto Quindi Forse era impensabile Un po' di tempo fa Dire cacchio Un giorno È impensabile E comunque ovviamente Anche noi siamo figli Di una generazione digitale No Poi parlavamo prima fuori onda Di come poi cambia ogni anno Tutto Effettivamente Anche se noi siamo nati No Parlavamo prima Non siamo nati Da un profilo Instagram Banalmente Adesso però siamo già Una nuova Nuova ondata Adesso poi c'è TikTok Ovviamente Ogni Cinque Sei anni O magari anche meno Perché adesso è sempre Tutto più veloce La musica È anche figlia Forse Della socialità Del social Di quello che Rappresenta Un po' lo specchio Della società Cosa vuol dire Che siete nati Da un profilo Instagram È che Siamo davvero nati Da lì Cioè Noi abbiamo iniziato Il nostro progetto In maniera indipendente Con un'etichetta Che era appena nata A Milano Ma Con la quale Poi abbiamo iniziato A collaborare dopo Abbiamo messo in piedi Questo progetto Un po' così Per divertimento Senza neanche troppo Crederci Perché facevamo Un altro lavoro Che non ci soddisfaceva E quindi abbiamo detto Ma proviamo a fare qualcosa Di artistico Poi Fausto Ha sempre fatto musica Da quando è Ragazzino E quindi abbiamo iniziato Da lì Quindi avevate due percorsi Completamente diversi In quel momento Sì 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 Io non ho mai fatto musica Se non per così Per divertimento Ma con gli amici Quando ero ragazzina E lì già stavate Stavate insieme? No Noi siamo insieme Da 6-7 anni Più o meno Circa E abbiamo iniziato Lavorando assieme In un negozio Ah E poi da lì Insomma Fausto mi ha fatto sentire Aveva un po' di provini Nel computer Lui comunque Ha sempre continuato A fare musica Al di là del lavoro Poi Che faceva per Vivere E abbiamo detto Ma dai ma proviamo A fare qualcosa assieme Cioè Lui aveva in mente Di fare un progetto Un duo E io inizialmente Gli facevo i provini Ma che poi Sarebbero stati destinati A un'altra persona Sì non a me Perché io appunto Non ho mai Fatto spettacolo E cioè L'idea di mettermi Di salire su un palco Di cantare Sembrava una roba Lontanissima Sì sì Impossibile da fare E invece poi Alla fine Questi provini Si sono accumulati Sono diventati Sempre di più Abbiamo iniziato A farli sentire in giro E ci hanno detto Ma dai ma Ma spacca Che siete voi due Che poi siete insieme Che E quindi alla fine Ho detto Vabbè dai Ci hanno licenziato Fatalità Dal lavoro Che stavamo facendo Eravate nello stesso negozio Sì 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 E niente Allora Era inizio dell'estate Quindi trovare un lavoro A Milano D'estate Comunque difficile Abbiamo detto Ma sai cosa c'è Proviamo a buttarci In questo progetto qua Seriamente Per due o tre mesi Totalmente Facciamo questo E da lì Poi è uscito Il nostro primo EP Che ha Insomma Riscosso Un po' di successo Un piccolo successo No? E basta Ci siamo Entrati in questa etichetta Abbiamo iniziato Questo progetto Però sì Appunto È iniziato da Instagram Perché Pubblicavamo Le nostre foto E le prime canzoni Su YouTube I video sempre prodotti Da noi Anche perché questa poi È una bella storia Anche un po' di ispirazione Proprio perché In realtà Non tutto arriva subito Immediatamente Cioè Fausto ad esempio Fa questa roba Da tanti anni Sì E che cosa Secondo te Innanzitutto che cosa Non ti ha fatto mai mollare Nel senso per cui Tu hai continuato Pur facendo mille lavori Io sono pieno Di amici Che avevano quella passione Che hanno provato Che poi però A un certo punto Hanno in qualche modo Accantonato E hanno detto Vabbè è andata così Io adesso Provo a fare qualcos'altro Tu invece Hai insistito Fino a Trovare Evidentemente Questa alchimia Che è stata poi fondamentale Ma sai Onestamente Ovviamente è una domanda Che mi è già stata fatta E In realtà è molto naturale Per me fare musica È una necessità Tant'è che appunto Io Avevo già attaccato Il microfono al chiodo Fondamentalmente Quando ho iniziato Questa cosa con Francesca Per me era semplicemente Appunto C'era Instagram Che era in quel momento Andava a cannone E quindi dicevo Vabbè dai Così per ridere Io e lei Ormai avevamo Appunto Una relazione Poi lavoravamo insieme Avevamo Deciso di Avremmo aperto Magari un negozio Insomma saremmo diventati Magari soci Nella vita Insomma chi lo sa Però comunque Però l'ho sempre fatto Perché era normale Quello è la necessità Di buttare fuori qualcosa Quindi poi è successo Che sia È successo che sia successo Però Credo che anche i tuoi amici In realtà forse Non No poi in realtà Continuano lo stesso Piuttosto vuoi suonare Anche nei locali Sì Anche band Così È una passione Io mi ricordo Un concerto Appunto Prima di fare Comacose Uno degli ultimissimi concerti L'avevamo fatto sotto casa Ti ricordi Al Naviglio Che c'era Non so C'erano tipo Dieci persone No E lei era stata carina È venuta a vedermi Però c'è Punto Tu immaginarti Però Nel senso anche lì Finito il concerto Siamo venuti una birra Ha fatto due risate Cioè è finita Andava bene così Non è che Certo ovviamente Mi sarebbe piaciuto No Ai tempi Dire cavolo Però Però era già Un ricordo Nostalgico E questo Ti ha Vi ha aiutato poi A vivere anche meglio Il successo Insomma Quando le cose Poi hanno girato Sai noi Non è per fare I finti Umili È che onestamente Viviamo Non so Noi Come Cioè Una vita Una vita normalissima Facciamo delle vite normali Sì Più che altro Penso che la determinante sia Che noi non siamo diventati Famosi da giovani Quindi avendo una Vissuto una vita di Fatta di tante vite Prima di arrivare a questo progetto Comunque abbiamo plasmato Anche la nostra personalità Il nostro modo di essere Sulla normalità Quindi Poi se si dice questa cosa Che L'età in cui diventi famoso In qualche modo Nello spettacolo Nella musica Eccetera Un po' ti frizzi A quell'età lì Tipo Non si prendi Michael Jackson Per dire Tu poi hai quel ricordo Hai quel ricordo E noi Comunque siamo diventati Famosi da grandi Cioè io E qui saremo sempre grandi Sì Saremo sempre Saremo sempre adulti No Poi vabbè Nel senso Penso che abbiamo anche Una parte abbastanza Fanciullesca Dentro di noi Però Sì certo Però hai già Comunque una stabilità Sia emotiva Che psicologica Esatto Che probabilmente Da ragazzino Non hai Questo probabilmente Ti aiuta anche A vivere meglio Questo genere di situazioni Sì ma anche banalmente Aver fatto tanti lavori Aver vissuto tante fasi Della vita Tanti Up and down Ti fa Ti fa crescere C'è qualcosa Fausto Che magari adesso Che le cose poi Hanno iniziato a girare Ti è capitato di Non dico toglierti Qualche sassolino Dalla scarpa Però Qualcuno Che magari in passato Non ci aveva creduto E che poi invece È tornato Beh in realtà No Perché Appunto Questo lavoro Poi è fatto Di tante Sfide quotidiane E quando sei dentro Quando sei dall'altra Quando sei Diciamo Quando aspiri al successo Ti immagini Chissà che stanze Dei bottoni Chissà che Congiure Perché lui sì Io no È normale Poi in realtà Ti rendi conto invece Che è veramente Una giungla Nel senso buono Anche stimolante Però sei talmente immerso A fare il tuo Che Che forse in realtà Guardi gli altri Con stima E dici Magari anche Quell'altra L'artista Che non mi stava Magari simpaticissimo Poi lo conosci E scopri un'umanità E dici ok Siamo tutti Sulla stessa barca Fondamentalmente Perché poi ognuno Ha il proprio viaggio No vabbè Tornando a Sanremo Sicuramente è stato Quel momento Di Game changing Nella carriera Dove finalmente Anche lo zio La mamma Certo Ma ecco cosa fa Ecco cosa fa Ecco cosa fa Quindi quello È servito Forse per quel motivo lì Si sono rifatti I compagni Delle medie Quello fa piacere Però è un piacere affettivo No Ti ripeto Non c'è Un senso di rivalsa Alla fine Ok C'è Forse anche Quello che dicevamo Prima È anche un po' Un antidoto Essere diventati Essere arrivati A un successo Insomma Da adulti Perché Siamo Parto personalmente Insomma Sono sicuro Di quello che faccio Ecco Non so come dire Magari quando sei giovani È più difficile No Tenere Veramente un timone A dire le pressioni E magari dicono No ma devi fare così Fai cos'ha Non mai visto che quella canzone Ha fatto più Ascolti Boh Alla fine Quando sei adulto Un po' te ne freghi Cioè Come se magari Da adulto Ti dicono No ma non stai bene Con la cintura E tu dici Ma ascolta Ma che io È 40 anni È 50 anni Che capito Che la metto Cioè È quel concetto lì E quindi Questa cosa Alla fine Si ripercuote In una certa libertà creativa Che ci rende sereni Da vista lavorativa E voi di libertà creativa Ne avete un sacco E si vede poi anche tanto Insomma Uno dei punti di forza Anche della vostra musica Sono i testi I giochi I giochi di parole Insomma Qual è quello di cui Siete più orgogliosi C'è un pezzo Una strofa Un qualcosa Ma allora A me dell'ultimo disco Piace molto Un gioco di parole Che abbiamo fatto Su un gioco di parole Precedente Che è Che schifo Avere ventagli Di foglie d'acento E ostentarli Questo è proprio È un trick Questo è proprio Un giro incredibile Questo Ma che schifo Avere ventagli Mi fa ridere tantissimo E Mi piace È veramente Un vostro marchio di fabbrica Cioè io ho amato tantissimo Cioè il fatto Hype Paura È È fighissimo Cioè quella roba lì Ti viene in mente Mentre sei in giro Ti fermi e te la scrivi È lì tipo illuminazione Com'è che ti è venuta Non mi ricordo Ma in realtà Eravamo Ma è venuta così Come tutto Succede No Sì Sì Pensavo Hai paura Hype Hype Che adesso è la parola del momento Esatto No Eravamo Mi ricordo Anoli Ce l'avamo ritirati In questo luogo Insomma Della Liguria A scrivere Il disco E mancavano Cinque giorni Alla consegna Il titolo qual è Hype Paura Boom Via Fatto Ma qual era il precedente Lo ricordi tu No Gli scartati Finiscono nel tritacare Via Tra l'altro Adesso per preparare Tutto ciò che è nuovo Leggevo Sentivo Che insomma Vi siete un po' Distaccati Nell'ultimo periodo Da tutto Cioè dai social Pur partendo da Instagram A un certo punto È stata una necessità Artistica Una necessità umana Entrambe le cose In realtà Perché poi comunque Scrivere un disco È Cioè uno sport Comunque complesso È lungo Anche no E avevamo bisogno Di capire un po' Chi eravamo oggi Cioè che cosa raccontare Di noi oggi Perché comunque Abbiamo raccontato Tanto delle nostre vite Di noi Di quando vivevamo Una zona Che era quella Dei Navigli Giambellino Eccetera Facciamo una vita Diversa da quella Che facciamo oggi E abbiamo raccontato Tanto Milano Noi eccetera Poi ovviamente Si cresce Si va avanti Si fanno delle esperienze E a noi Non piace neanche Ma ne parlavamo In questi giorni No Il fatto comunque Di fare un genere Oggi Che sia quello Che sia riconoscibile In qualche modo Ti aiuta Perché Come se tu dici Ok Io sono questo Faccio questo E chi vuole Questo genere Viene qua E sa che lo trova Noi purtroppo Non siamo così Non Ci piace Variare molto In quello che facciamo Non abbiamo Non siamo mai attaccati A una cosa sola No E quindi diventa anche complesso Dire ma adesso Io oggi No Che ho questa età E faccio questa vita Che cosa voglio raccontare E per trovare Quella cosa lì Comunque ci vuole Tanta concentrazione Ci vuole anche tempo Per pensare Scavare Capirti E riflettere E quindi È stato proprio Necessario Perché poi Se Insomma Vivi Il social Vivi anche tanto Il mondo fuori Quello che fanno gli altri Ti metti a confronto Ti Ti butta un po' fuori Da chi sei tu Perché ti fai un po' Anche Come dire Influenzare Dal resto No E per fare qualcosa Di artistico Questa cosa Non va bene Non puoi Perché sennò Poi viene influenzato Naturalmente E quindi Abbiamo fatto questa scelta È stato difficile Io Ogni tanto Devo dire Una spizzatina Ma Sì Ma non in maniera Mi alzo E prendo il telefono Ecco Magari O alle 4 del pomeriggio Dico Ma boh Fammi vedere Un po' Cosa succede Nel mondo Lui invece È proprio categorico Cioè Sette mesi Sette mesi Senza niente Senza niente Detox puro No YouTube YouTube lo guardavo YouTube sì Vabbè Però YouTube È un intrattenimento Non è neanche un social Sì Ma se poi c'è Il contenuto lungo Quindi È anche una posizione diversa Ok Come guardare la televisione Non è che non hai guardato la televisione Esatto Però Comunque Cioè Ti rendi conto Davvero Sembra una cazzata Però hai un sacco di tempo A disposizione Sì Quello è incredibile Perché Quel buco nero In cui finisci Quando a volte apri Che non sai quanto dura No Magari può durare due minuti Come un'ora No no E poi Non riesci mai neanche a vivere Davvero Che ti dici Ok Adesso cosa faccio Cioè In questo momento di noia E ti inventi qualcosa Comunque viaggi No Col cervello Con la fantasia E non ho capito Se in questo periodo C'è stato anche un distacco Tra di voi O è solo stato un distacco Dai social Da quant'altro Ma in realtà C'è stato anche un distacco Tra di noi Diciamo che appunto Dopo Sanremo Dopo il tour Fondamentalmente Si era chiuso un ciclo Il nostro lavoro È fatto di grandi cicli Tu quando finisci la promozione Finisci il tour Ci sta Che ti ritiri un attimo Fai il disco nuovo Ovviamente Questi tempi Sono sempre più accorciati Perché oggi Chiaro Viene richiesta Una presenza massiccia Ma tendenzialmente funziona così E quindi L'abbiamo preso come un'opportunità Cioè abbiamo detto Comunque noi è cinque anni Che facciamo sta cosa qua No La sindrome del profilo di coppia Comunque la soffriamo un po' No Cioè quella roba lì E dici Sì Ok Però siamo due persone Con percorsi diversi Con esigenze diverse E quindi ci siamo anche staccati Ma semplicemente Per respirare un attimo Noi Siamo tornati Ognuno al paesello Per Un mesetto scarso Ed è stato rigenerante Anche per capire Il sentimento nostro Insomma Questo poi Magari è un discorso Più privato E tutto Però Ci sta Fondamentalmente Ti devi chiedere Ma noi Se non fossimo questa cosa Staremmo insieme Staremmo qui Cosa faremmo Cioè Stiamo diventando schiavi Anche di un certo tipo Di dinamica lavorativa Perché poi Quando ti trovi A parlare solo Di lavoro Ovviamente Va da sé Che un po' il rapporto Diventa un pochino più sterile Sotto certi altri aspetti Quindi bisogna anche Un po' Era la cosa che poi Mi incuriosiva anche Di più In alcuni momenti Cioè come fai A tenere tutto unito Ad avere un equilibrio Tra la vita privata La vita pubblica L'amore All'interno del lavoro Cioè alla fine Ma questo sia che sia Il vostro mestiere Che chi magari Lavora nello stesso ufficio Cioè è comunque complicato Sai infatti Il disco si chiama Un meraviglioso modo Di salvarsi Anche perché ovviamente Per noi è stato Salvifico Fare questo disco È un disco È un disco molto libero Ed era questa la chiave Del concetto Di ok Se noi mettiamo La musica Come un qualcosa Di totalmente creativo E libero Allora Ha un posto Nella nostra relazione Se invece Quella cosa Li diventa Alla ricerca Del successo Spasmodico Quindi il singolo Capito Tutto ciò Che è targettizzato E allora diventa Lavoro E allora Decade Cioè o una cosa O l'altra Non so come dire Se la musica È una cosa bella Spontanea Siamo noi Che facciamo anche musica Se diventa quello Il timone Io e lei Scompariamo Pian piano Certo Anche perché poi Quella ripeto È stato È un grande vostro Punto di forza Ad esempio Prima citavi Il gioco di sguardi Del festival di Sanremo No Quella roba lì Ha empatizzato tantissimo Con il pubblico Al di là della canzone Che era Molto forte Quel momento lì Degli sguardi Era nato Improvvisato O era stato un qualcosa Che Ma no Abbiamo fatto un po' di Necessità Virtù Diciamo Perché Non essendoci pubblico E poi Essendo una canzone Che comunque Noi ci dedichiamo A vicenda Poi quando pensi Alla performance Dici ok Ma allora Poi noi siamo in due Quindi anche lì È diverso Dall'essere da soli Perché se tu sei da solo Ti muovi Sul palco È uno spazio diverso Diverso Noi invece Dobbiamo sempre Coordinarci In qualche modo Anche se non sembra Però sappiamo Dove l'altro Devi sempre stare attento A cosa sta facendo Per avere un minimo Di Di senso Di Di incrocio Di distanza Di avvicinamento E quindi abbiamo detto Vabbè Non c'è nessuno La canzone Ce la dedichiamo A vicenda Allora Dedichiamocela Fino in fondo E guardiamoci E cantiamola così Ci piaceva Una cosa che ci piace molto È sempre creare Una sorta di ordine In quello che facciamo Anche visivo Perché se no Insomma È un casino Non c'è Ma poi è vero Cioè Comunque faceva strano Che tu sei lì Con la tua compagna O col tuo compagno E ti dedichi Una canzone d'amore E non lo guardi Cioè È comunque un po' strano No? Se è un duetto Magari due artisti Che si vengono Appunto Si uniscono Per fare la canzone Ci sta Anche perché storicamente Quante sono le coppie Cantanti? Eh ma allora Vabbè Albano e Romina Sì ok Poi guarda Abbiamo riscoperto Ultimamente I Crisma Che Sono poco conosciuti Ma erano una coppia Di artisti Fighissimi Superpunk New Wave Degli anni appunto Ottanta Che avevano una storia Tra l'altro Molto simile alla nostra E poi Però non sono andati A Sanremo Non credo I Crisma Mi sa di no Italiani comunque Italiani Sì sì Ma erano Fighissimi Cioè Tipo non so Sono stati Non so A New York Da Warhol La Factory Si hanno conosciuto Davvero Chiunque Bowie Blue Reed Cioè proprio Totalmente alternativi Matti Fighissimi E la storia è simile Perché poi in realtà Cioè Tornando alle coppie Sì Gialis Che a Sanremo Hanno vinto Sanremo Hanno vinto Sanremo È stata una maledizione Purtroppo Che poi Sì poverini Non li chiamano più E poi chi Ancora Popolare è legato Alla radio Perché più o meno Mi ricordo che era il periodo In cui avevo iniziato A Radio DJ DJ TV Girava molto il vostro video E la radio Vedo che Nonostante i tempi cambiano Eccetera Comunque sugli artisti Ha comunque un impatto Particolare Vi ricordate il preciso istante In cui avete sentito la vostra canzone Per la prima volta in radio? Ma sì Perché abitavamo in questo Monolocale In Zona Giambellino Ed era post concerto Mi ricordo la canzone E ci eravamo trasferiti lì da poco E avevamo la radio Ok Quella vera La vera radio No 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 Sì sì Perché ci eravamo appena trasferiti La televisione Non l'abbiamo avuta per tantissimi anni Adesso vabbè L'abbiamo ripresa per guardare YouTube In realtà E quindi mi ha detto Dai Era una volta media Ora ho detto Prendo una radiolina E ce l'ascoltavamo Era una mattina E infatti mi ha detto Cazzo Cioè tu non sapevi che in quel momento Sarebbe passata Ma no mi sembra No No Non No Era radio DJ L'aveva passata Non mi ricordo Se Linus o Nicky Sinceramente Era Sì era DJ Chiamai Italia Sì sì Perché poi sai appunto Ovviamente cioè Figata passare a DJ Passare a DJ Chiamai Italia Sì è vero Ha una Una valenza maggiore Sì sì No tra l'altro A proposito di DJ Chiamai Italia Mi ricollego Perché ieri sera appunto Abbiamo fatto i compiti Abbiamo guardato un po' di puntate Ok E abbiamo visto appunto Anche quella con Linus E ci ha fatto effetto No il Qualche lui diceva appunto No ma che sai Poi vengono questi cantanti Sugli artisti che raccontano i loro dischi Poi insomma Lui è Esatto Non va mai morbidissimo Sulle cose No però No noi siamo tra l'altro andati E abbiamo detto Ecco sicuramente No Però a parte gli scherzi No è vero no Infatti Ultimamente noi stiamo divorando Non lo dico perché Perché siamo qua Nel senso perché È un piacere essere qui Grazie Al di là di tutto Però questo tipo di Di formula di intrattenimento È molto bella Perché svisceri magari degli argomenti Certo È il modo veramente di parlare Però penso si dà entrambe le parti Perché è anche È vero che magari l'artista È costretto a questo tour de force Però anche chi intervista Magari ha una cartella stampa Con le cinque domande da fare Diventa un po' Certo No anzi Il discorso poi La cosa bella che avviene qui Che tante cose magari Di cui abbiamo già parlato adesso Magari in radio Per via dei tempi Per via delle cose Fanno fatica a venire fuori Però in tanti casi è bello Sapere anche come è nata Banalmente una canzone Tipo qual è la canzone Di cui siete più orgogliosi Fino ad oggi Allora Parlo sempre dell'ultimo disco Perché poi è il più fresco E ovviamente Quello che preferisco E a me piace tantissimo Odio ai motori Che è appunto La terza traccia Del disco nuovo Perché è una suite Sembrano tre canzoni diverse Messe assieme Raccontano un po' È un po' Come dire Ti fa capire chi siamo Cioè parte un po' Da rap Poi arriva una parte Più cantautorale Poi chiude Con una coda psichedelica Ed è totalmente libera Come canzone E quindi sì Mi piace molto A livello di sound Come è stata registrata Ci sono un sacco di Di suoni registrati Non so Le chiavi di Fausto Che accende la macchina Il cancello fuori casa Ti racconta una storia Quindi suoni ambientali quasi Esatto sì E ti racconta un pezzo Della nostra storia In maniera così Completamente psichedelica Ma a me piace Piace molto sì Anche Foschia Devo dire Ma tra i due Come nasce una canzone vostra Di solito Cioè c'è un iter Anche il rapporto Anche il gioco di ruoli Su queste cose Tendenzialmente Scrivo io Ovviamente Avviene tutto Tra le mure domestiche Quindi c'è un confronto Anche banalmente Francesca Anche se non sta facendo Magari quello nello specifico Però è in casa Ok Ok Dice Questo funziona Questo no Poi le dico Guarda Magari la tua parte Pensavo potrebbe essere questa La prova un attimo Lei stessa diceva Magari ma qua Forse andrebbe meglio Dirlo così Però sì Diciamo che viene Nasce tutto abbastanza in casa Da un giro di chitarra Un giro di piano Un beat O quello che è Dopo In casa tua hai tutta questa roba qui Sì in realtà Poi sai Con la tecnologia di oggi Anche il computer Computerino A scheda audio Due chitarre Tastiere a midi E fai tutto Ok E poi dopo si va in studio Con i nostri produttori Insomma I Mamacass Che sono un due produttori Che con cui lavoriamo Da giorno zero Io con loro poi vado avanti E poi insomma Dopo si va in cottura Questo è più o meno da sempre Poi l'iter L'iter con cui nascono poi le canzoni Ma sì Poi c'è un tutta una parte Di suggestioni così Che succedono Capito Appunto Ti annoti delle cose Sul telefono fisicamente O mentre cammini Diventano appunto Quella piccola miniera Poi da cui Attingere Tu dici ok Ho questa canzone Che parla sta tematica Fammi andare a vedere Dal quaderno Delle rime No Se c'è qualcosa Che può centrare lì E quindi poi si fa un lavoro Di tessitura E nel vostro caso Dato che insomma Il mercato poi musicale È particolare oggi No Voi non fate caso A tutto quello che circonda Andate dritti Per quello che volete fare voi Ma sai Ci sentiamo anche un po' Insomma inadeguati Forse a seguire certi trend No Ad esempio Non so Banalmente Ne dico uno La musica latina Va fortissima Sui social Sulle piattaforme Noi non Non so Non credo Che a me Non so Tu so Tu a te Vi Io dici Io mi ho Di nascosto Mi ascolto il reggaeton In cuffia In bagno chiuso No In realtà no Ma non Sì Non fa parte Neanche dei nostri ascolti Non l'abbiamo neanche mai Ascoltata No Sì 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 No infatti Non la conosciamo Non sapremmo Non sapremmo da che parte Affrontarla Quindi sì Poi sai appunto L'unica cosa latina Penso non so I Gypsy King Io tipo O Jennifer Lopez Sì 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 O La Lambada Per dire Potremmo fare un pezzo E campionata potrebbe Qualcuno l'ha già fatta Mi sa questa Ah sì Sì mi sa che questa roba qui L'ha già fatta E all'interno Invece della scena Musicale eccetera Il vostro rapporto Con gli altri artisti Com'è Come vi vedono Secondo te Ma Non Non so Allora Noi ascoltiamo Molta musica estera Devo essere sincera Facciamo un po' Un po' Di fatica Con la musica italiana Proprio per Piacere di ascoltarla Perché Al di là poi Del fatto che Appunto Ti Anche involontariamente Un po' Ti condiziona No E E Poi Per trovare Anche delle soluzioni Magari più Melodiche Di suono Cerchi di andare Più in là Possibile Per poter Avere un tuo Una cosa tua Che rappresenti Più te Devi essere Più libero Possibile E E E quindi Boh Non so Poi noi Non è che Frequentiamo Molto L'ambiente No Musicale Anche perché Poi ad esempio Il Sanremo Che avete fatto voi Eravate tutti Un po' Bloccati Anche lì Anche lì Capito L'occasione Magari che hai Di poter Avere uno scambio Con gli altri artisti In realtà Noi eravamo chiusi In hotel Ci siamo visti Solo io Lui E il nostro team Di persone Quindi Sì Non facciamo Una vita Molto mondana Ecco Sembra strano Ma appunto L'ho già accennato Prima Ma ogni Cinque anni Diciamo che c'è Un cambio Della guardia Forse ecco È stato propulsivo Anche per quanto Riguarda La nostra carriera Un certo momento Storico Forse Che è stato Quello che Magari è partito Da Calcutta Poi sono Di giornalisti Hanno aperto Hanno tracciato Una sorta Hanno aperto Insomma Un po' Una diga Una necessità Forse Di un cambio Stilistico Di un cambio Di lessico E sono arrivati Gruppi come noi Poi mi ricordo Non so Carbrave Franchino A Roma C'era anche Un po' Un dualismo Un dualismo Sì Fra Quintale Poi Cosmo Che c'era da prima Però magari in quel momento Poi anche Ria Rie Fiorito Mischetta E Motta Insomma Diciamo che c'è stato Un momento E forse Questo momento Ha fatto sì Anche che Tutti noi No Come Come dire Godevamo anche Del fatto che Ci fosse un pubblico Diciamo Ci fosse una scena Che è quello che succede Anche nel rap Magari tanti artisti Al di là di tutto Vengono seguiti Sicuramente perché Hanno un pubblico Che li stima Li segue Ma anche perché Banalmente sono rap Sono trap Fanno parte di quella Cioè quella cosa lì È determinante Sentirsi parte di qualcosa Sì ma anche proprio perché Hai dei canoni E quindi vieni ascoltato A prescindere Quella cosa comunque Fa engage Inevitabilmente Ecco questa cosa Adesso si è un po' Rotta forse No Cioè diciamo che Ognuno ha trovato Giustamente il suo percorso Quindi le strade Si sono un po' Allontanate Sì è vero Questa cosa E quindi non c'è più Una scena indie Non so come dire Infatti anche se tu Se tu pensi La parola indie Per quanto poi fosse Grottesca anche ai tempi Però ci sta Che viene Bisogna trovare un nome No Giornalisticamente parlando Esatto E adesso Non se ne parla più Perché non c'è più Quindi ecco Forse questo è cambiato E con questo È cambiato forse Anche un po' Il fatto che Come diceva Francesca Tutte queste persone Che vedevamo Molto più spesso Ma anche banalmente Ai festival No è tutto Adesso dopo lockdown E dopo Effettivamente è un po' Che non ci si becca Proprio più Cioè non c'è proprio L'occasione C'è un po' meno occasione Esatto Però insomma Confidiamo che adesso Noi siamo Ci siamo riaffacciati al mondo Adesso quindi Un po' promo Abbiamo già incrociato In qualche corridoio Un po' di persone Andremo a vedere Concerti di amici Quest'estate Saremo in tour Quindi nei festival estivi Spesso sei accomunato Ad altri artisti Sicuramente ripartirà Anche un po' E come funziona La vostra vita da tour Cioè proprio come coppia Ma Normalmente Noi Vabbè Abbiamo vissuto Varie fasi del tour Siamo partiti da Cioè primo tour Andavamo in treno Col fonico Il botterista E le valigie E il pedale Di Ricky Che pesava 50 kg Per suonare la batteria E poi Abbiamo fatto l'upgrade Al furgone Quindi Siamo passati In un furgone Da nove posti Con un driver pazzo Che rischiamo la vita Ogni volta Che uscivamo di casa Perché era un po' Maldestro E lì abbiamo fatto Tantissime date Tipo 90 date In un anno Tantissime Che anno questo? 2019 18-19 Ma anche in treno Era stato un tour lungo Anche in Puglia Andavamo in treno Cioè delle cose Davvero delle traversate Incredibili E l'ultimo invece Upgrade ulteriore Abbiamo due van Quindi c'era la band Che poi pian piano Ci sono aggiunti Sempre più elementi Perché poi Inizialmente eravamo pochissimi E adesso Pian piano Ne abbiamo aggiunti Sempre di più Il prossimo tour Ne abbiamo aggiunti Altri due Quindi saremo in otto Sul palco Che è una figata Pazzesca Che insomma Volevamo fare da E non si va più in treno Perché comunque No in treno Non conviene più Iniziano ad essere Troppi biglietti Meglio ammortizzare La benzina In quel caso Esatto Sì E quindi Niente Ce la Ce la viviamo così Come gestite Le litigate Perché sicuramente Litigarete anche voi Come tutte le coppie Del mondo Ma guarda Io ho una famiglia Del sud Quindi in casa mia Il dramma Il litigio Sono sempre dietro l'angolo Quindi per me Cioè noi Io forse più di lui Anche sono un po' più irascibile E ho la litigata Un po' più facile Però per me C'è un modo di discutere No Ok adesso Discutiamo Ci scontriamo Però poi Tutto a posto Si finisce subito Lui magari Se la cova un po' di più Anche se non lo dà vedere Perché ovviamente Dice Io invece appunto Vengo dalla famiglia Mi interessa No Vengo dalla famiglia Invece lombarda Un pochino più parca Nei modi di fare E quindi siamo un po' l'opposto Però poi dopo Però mi è mai capitato di litigare Prima di salire sul palco Per dire Sì 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 Assolutamente E lì cosa fai? Ma lì poi sai Quando sali su Scatta qualcosa L'emozione La gente La musica Cioè incomincia Lo spettacolo Che è una cosa comunque Che hai fatto insieme Lavorato assieme Per arrivare a quel compimento lì Quindi qualsiasi cosa Successa prima Vanisce Cioè la metti da parte Perché comunque Stai facendo una cosa Che dici Cavolo adesso Adesso si fa questo Eh si fa quello Cioè adesso Se sa farmi troppo i fatti vostri Ma ce n'è una che vi ricordate Di litigata Che avete fatto Ma oddio Epica proprio Va a Sanremo Abbiamo litigato Sanremo Davvero Un paio di volte Sì 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 Però Cioè vabbè Litighi Cioè ti mandi A fanculo Sì E poi basta Anche perché poi Non hai Cioè come fai Non puoi Rimanere arrabbiato Poi magari qualche volta Cioè ci lanciamo le frecciatine A Sanremo No Perché poi sarà tutto mega teso Quindi Eh no Lì subentra anche la tensione Credo Eh sì Poi sei super concentrato Perché poi Soprattutto in quell'occasione lì Ancora più del concerto Dici cavolo Magari sono sei mesi Che lavoro a sta roba qua E poi c'ho quattro Esibizioni da fare E mi gioco tutto lì Certo E quindi Sì Metti da parte Metti da parte tutto Però no Succede spesso Poi fortunatamente Non siamo mai da soli Da soli Quindi Essendo che siamo con la band Con un gruppo di persone Collaboratori Eccetera Dici vabbè dai Vai Io parlo con qualcun altro Poi ci sentiamo dopo Poi passa E chi è il pubblico De Coma Cose Che idea vi siete fatti? Ma noi abbiamo un pubblico Molto vario Devo dire Da appunto I ragazzini Di vent'anni Anche meno Alle famiglie Con i figli Alle volte anche Ci è capitato spesso Di incontrare magari Signore e signore Di 60 anni Tipo Che dici Cavolo Super fan Alla fine dei concerti Quando appunto Pre-covid E tutto Si poteva un po' Anche poi parlare Con Col pubblico Rimanevamo molto stupiti Di questa cosa qui Abbiamo un pubblico Davvero C'è un target Vastissimo Eterogeneo Sì Ma questo Appunto è il prono Di non avere forse Un genere Il genere vostro Ecco ma Cose Cioè Alla fine sì Alla fine sì Siamo io e Francesca Che diciamo cose Su musica Ecco Questo è il genere E questo Mi sembra Musica varia Mi sembra una spiegazione Più che valida E fasto C'è qualcuno In Italia Che ammiri particolarmente Dal punto di vista Artistico Musicale Beh Ci sono tanti artisti Della vecchia guardia Ovviamente Che ammiro Poi sai Noi siamo Siamo fan Appunto Anche Anche delle canzoni Poi a volte Più che di Ci sono brani Bellissimi Anche della discografia Moderna Brani di Brunori Ad esempio Che sono secondo me Toccanti Intensissimi Cosmo Ha fatto dei pezzi Bellissimi Fra quintali Insomma Quelli che dicevamo Prima Perché lì poi È tornata Importante la parola Non so come dire Cioè in quell'ondata Che tu dicevi In alcuni casi È tornato È tornata È tornato il cantauto Cioè è tornato Il momento in cui Chi canta Ha scritto Quello che canta Che era una cosa Che un po' Si era perso Prima di quel momento Sì ed è una cosa Che noi continuiamo A fare con Con serenità E forse anche Un po' ingenuità Perché ovviamente Poi in questo lavoro Qui va da sé Che è come se fosse Normale Che il secondo step Ok bello Ci è piaciuto Questa cosa qua Naif Adesso mo' La strutturiamo E c'è un po' Ti guardi attorno E vedi un po' Di corvi Là sopra Che aspettano Di entrare A far parte magari di Per dare un valore Che sicuramente Lo è Però Noi non Non ci siamo mai sentiti Abbiamo fatto delle prove Dei tentativi Però non funziona Non scatta la magia In qualche modo Le nostre Le nostre canzoni Succedono Perché siamo Forse anche Noi Nelle nostre intimità Forse lì L'effetto Coppia Poi allargato Ai nostri Più stretti collaboratori Tutela anche Un po' Questa cosa Che ripeto Magari non è per forza Un bene Sicuramente Condividere Scelare la musica È figo È creativo È stimolante Però in qualche modo Se devo essere onesto Sui coma cose Non funziona mai Cioè tutte le volte Mi ho fatto una sessione Con altre persone Andavamo via Diciamo Cioè la sessione Con altre persone Vuol dire Che ti incontri Che magari dici Con un artista Anche che stimi Un produttore Che magari ti ha scritto qualcosa O proprio una collaborazione Featuring Magari ti trovi Banalmente E dici Ok io avevo Questa idea Io avevo questa cosa Io ho questo riff E si cominciano Si provano magari a vedere Se succede una canzone Alla fine della giornata Ovviamente sai che non andrai via Con la canzone finita Vai via con un provino Che poi pian piano Poi ti puoi srotolare E rivedere Però quelle robe lì Tutte le volte Che le facciate Le abbiamo fatte Qualcosa abbiamo fatto Qualcosa siamo riusciti a fare A livello di featuring Quello sì Quello sì Però è difficile Perché poi Già tra di noi È un featuring Perché comunque Io ho una tonalità Lui ne ha un'altra Diciamo che il triangolo Non funziona Il triangolo no Ecco Renato Zero Un artista Con cui sarebbe bello Collaborare Beh esatto Sono tra quelli Con cui vi piacerebbe Renato Zero Sicuramente Renato Zero Oddio Non lo so Venditti Venditti Tra l'altro L'abbiamo anche incontrato Una volta in aeroporto A Fiumicino No Un incontro incredibile Noi venivamo dal primo Primo maggio Che abbiamo fatto Stavamo andando a Barcellona Per fare una roba E io dovevo fumare Una sigaretta Prima di prendere il volo Devo fare un po' La ricarica di nicotina E vado In questo tipo Se gli acquari Che ci sono per fumare No Le box di vetro Sì Ok E cazzo C'era Venditti Dentro Anche lui Dentro Che fumava E scrollava il telefono E io li guardo Gli faccio Raga ma c'è Venditti Lì dentro E lui mi fa No ma non è Venditti Dai cosa dici Mi faccio No è Venditti Vi giuro Io vado a fumare Sono entrati anche loro Però in silenzio Sì nessuno gli ha detto niente Nessuno gli ha detto niente Perché che cosa gli dici Poi lui era lì Addirittura Vava il telefono Attaccato alla presa Ah stava ricaricando Ricaricando e fumava Ok In continuazione E la cosa Cioè che ha fatto ridere Che è entrato un ragazzo E ci fa Ragazzi ma voi siete Come cose E lui era lì Che non se le ha E noi tipo lo guardavamo E gli diciamo Sì siamo noi Ma Cioè tipo Gli facciamo cenno Ma guarda chi c'è lì dietro Perché va bene tutto Ma chi quel signore No 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 Sì zitto No però poi alla fine Abbiamo salutato Gli abbiamo detto Scusi posso Stringere la mano Grazie per quello che Insomma Musica eccetera E tutto E per cui sì Boh sarebbe bello Fare un featuring Mai dire mai Tra l'altro Vi è capitato Di ricevere attestati Di stima Da personaggi Dai quali non ve lo aspettavate Oddio Boh No Sì Sì No Sì adesso Una volta abbiamo incontrato Filippo D'Averio Comunque Io ho lui È lui Come la tua reference No non so Sei nei DM di Instagram Ormai La gente scrive Ma sì sì Adesso Adesso Tanti Sì Adesso non mi viene in mente Con nessuno Ma in particolare Abbiamo suonato con i Phoenix Per dire Ah certo Cos'era Tre anni fa Che ci avevano chiesto Di aprire un loro concerto Che Giorgio poi Si faceva tutto il tour con loro E ci hanno invitato A suonare a Parigi Che facciano queste tre date Ok Per dire loro Figata Ma sì Poi nel senso ovviamente Appunto Quando abbiamo fatto Sanremo Ovviamente la visibilità Ha fatto sì Ma sì ma insomma Anche Gianni Morandi Ti scrive In DM Non so Cioè cose così Anche che non Non immagini Grande Gianni numero uno Assoluto Sì personaggi Magari anche Molto Molto famosi Insomma Però ecco Diciamo che Non lo so Da una parte ci diverte Dall'altra Cioè finisce anche lì Ecco sì Nel senso che fa piacere Questo perché siete Grandi Come abbiamo detto prima Non vi stupisce più No no Ci piace molto Ad esempio Non so Siamo andati da Da Maravenier Ovviamente Sono quelle occasioni Che a noi ci gasano Certo C'è quella No Quella Sottile Attrazione Verso qualcosa Che hai sempre visto Da bambino Ovviamente sai che vai In un carrozzone Che non ti comprende Esatto Però comunque anche Però da zia Mara Un salto Esatto Perché veniamo da un'altra roba Totalmente Quindi fa ridere A trovarsi anche In quelle occasioni lì Però c'è una cosa Di tutte queste Per cui Adesso mai Non si dice mai Nella vita Però c'è un contesto Un qualcosa Per cui dici No io lì Non c'entro niente Non Difficile Che ci andrò mai Ma guarda Non saprei Perché tanto Comunque noi Cioè se portiamo La nostra musica Rimani te stessa Sì Alla fine il contenitore Importa poco Ecco Magari non so Andare a una festa Di partito politico Potrei dire Forse quello no O qualcosa legato A Sì Credo Particolare Ma per il resto Noi c'è Siamo contenti Beh cavolo E qual è stato Quel momento invece Lungo il percorso Per cui avete Capito che le cose Stavano girando Stavano iniziando A ingranare bene Una roba che vi ha fatto Particolarmente effetto Ma Oddio Non so Forse Non so Ma a me una cosa Che mi ha fatto effetto È stato lo Zighet Ad esempio Che è un festival Che fanno a Budapest 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 Sì E Insomma comunque Diciamo che venivano Ogni anno Penso che non so bene Come sia Comunque viene scelta Una compagina italiana Da portare In quel festival lì E quella cosa lì Insomma ti senti Comunque Onorato E poi è un'esperienza Comunque Tu vai suonare all'estero Cioè È una roba Che stai dicendo Cavolo Ma aspetta un attimo Quindi La cosa sta cominciando Quando prendi un aereo Ecco Quando ti trovi su un aereo E stai andando a suonare In un altro paese Lì un attimo Ti rendi conto Che qualcosa succede Era già successo Con i Phoenix Però quella è stata Una circostanza Anche Questo era proprio voi Ospiti di un festival Che ha un'importanza Esatto Questo è stato una roba Sicuramente i primi maggi Sono stati Sì ma infatti Sono tanti poi Piccoli traguardi Che fai Cioè Appunto il primo È stato il primo maggio Ma anche Non so Andare a radio DJ Per dire O Sì Mara Sanremo Abbiamo suonato Al Java Beach Party Tante Tante piccole cose Poi le cose succedono E Ti passano anche un po' Di mente Te le dimentichi Però si Traguardi Chissà quante ne devono succedere Ancora Quella è la figata Noi pensiamo a quelle Adesso il tour Voi sapete già Quando partirà Avete già Sì Adesso non ho sottocchio Le date Dalla regia Ce lo diranno Metà marzo Sì Sì Ok Siamo un po' dappertutto Poi vabbè Dai social si risale a tutto Partiamo da Padova Facciamo allestimento E data E poi vabbè Insomma Torino Milano Bologna Napoli Vabbè Ci sono un po' Ragazzi Vi vengono a trovare In realtà Sono tipo una decina Andiamo anche all'estero Quindi appunto Andiamo a Londra E a Parigi Questa è la prima volta Sì 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 È un piccolo tour Di dieci date Che bello E dopo da lì Iniziamo l'estivo Gran figata ragazzi Grazie davvero Per essere passati Insomma L'album nuovo Secondo me Insomma Adesso non voglio dire Che poi Sembra che l'ho Che l'ho guffata Però Tocca ferro Tocca tutto quello Che c'è da toccare Ma davvero Già il singolo Io Chiamami Ce l'ho Ce l'ho in testa Ce l'ho in testa Perché In radio Stiamo passando tanto Però Perché funziona Perché è bello E perché Avete una capacità Di arrivare Alle persone Con una cosa Tutta vostra E con un linguaggio vostro Che pochi Che è una cosa Che pochi hanno Quindi grazie davvero Mi ha fatto un sacco piacere Anche a noi Chiacchierare un po' Un po' di più Rispetto delle altre volte Grazie Grazie davvero I comacosi Sono passati dal basement Ciao Ciao